Musica Parliamo oggi di vertenze, vertenze che annichiliscono il lavoro, annichiliscono anche le persone. Cominciamo a parlare di Telespazio, lo facciamo con Giuseppe Di Costanzo, un centro di ricerca importante, un centro di ricerca che ha sviluppato professionalità importante e che poi è stato chiuso da Finmeccanica. Giuseppe, qual è la tua storia? Noi eravamo una sede di Napoli, di Telespazio Napoli, a Via Gianturco, che annoverava 33 persone, tra cui ingegneri e fisici, che erano dediti alle operazioni scientifiche a bordo della stazione spaziale, l'ISS. Purtroppo Finmeccanica, quando è arrivato il capo Moretti, ha deciso di chiudere questa sede, non si sa perché, unica in Italia, e ha smembrato questo nuovo, in cui praticamente siamo rimasti solo un piccolo nucleo, ora nel territorio casertano. Dobbiamo ringraziare a questo, soprattutto l'intervento della regione all'epoca con l'assessore al lavoro del governo Caldoro, il professor Nappi, e poi per l'intervento a nostro fianco del professor Carino, allora presidente del Cira. Abbiamo lottato, abbiamo fatto scioperi, come in tutte le vertenze, abbiamo fatto tavoli regionali, tavoli sindacali, finché siamo stati ricevuti al Mise dal Ministero, dal Vice Ministro all'epoca dei vincenti, e grazie all'intervento sempre dell'assessore al lavoro Nappi, che presenziò quella riunione, ci fu dato una sorta di respiro di altri mesi, per capire bene che cosa stesse succedendo. La questione è che nonostante noi fossimo unici in Italia a fare questo lavoro, infatti oggi non lo fa più nessuno, l'abbiamo perso come nuovo in Italia, sta di fatto che la firmeccanica, appena c'è stato il cambio al vertice della regione Campania, non ci ha pensato due volte, visto che tra le elezioni e l'insediamento del governatore dell'UPA sono trascorsi due mesi, in questo periodo l'azienda ha pensato bene di mandare le raccomandate di trasferimento collettivo a tutti i lavoratori. E quindi, diciamo, sulle difensive abbiamo dovuto accettare, nostro malgrado, un accordo sindacale che almeno salvasse un poco la dignità dei lavoratori. Oggi Telespazio ha nuovere a sei persone, sei risorse che cercano estremamente di salvare il know-how sul campo scientifico e per quanto riguarda l'ISS, quindi la stazione spaziale, e una decina di nostri colleghi che, opponendosi al trasferimento, trasferimento, grazie a un appendice che siamo riusciti ad ottenere nell'accordo sindacale, si sono ricollocati, diciamo, facendo altro lavoro, non più i ricercatori scientifici, sempre in sede alle aziende firmeccaniche, ex firmeccaniche, oggi Leonardo, quindi su Pomigliano, su Nola, su Pozzuli, quindi parlo di Alenia, piuttosto che di Vassa. E altri se ne sono andati, hanno scelto di lasciare l'azienda. Purtroppo questo è un ennesimo scempio per il territorio napoletano. Non mi nascondo che ognuno di noi, anche oggi, anche la settimana scorsa, mi sono arrivate offerte di lavoro, con tutto il rispetto parlando per chi il lavoro non ce l'ha e lo cerca e lo vorrebbe, ma io vorrei cercare di fare un lavoro, il mio lavoro, anche qui in campagna e non capisco perché il governo regionale, lo Stato, non consenta alla campagna di avere un nucleo che faccia ricerca scientifica nel campo spaziale, cosa che invece in Piemonte avviene facilmente con Altec piuttosto che con Tasi. Altra storia, dopo aver sentito Telespazio, parliamo di Nuova Sinter, azienda dell'indotto automobilistico, rilevata da imprenditori del Nord, siamo con Pasquale Nasti. Cosa è successo a te? Cosa è successo? Faccio una breve premessa per la storia della Merisinter, diventata Nuova Sinter, perché è d'obbligo, perché era un'eccellenza sia campana ma anche europea. Nasce ad Arzano nel 1968, facciamo prodotti sinterizzati per automotive ma per tutte le grosse case automobilistiche, partendo da Fiat a finire a BMW e circa quattro anni fa è stata ceduta a un imprenditore del Nord, Giuliano Zucco, ci tengo a precisare ex presidente dell'Ivrea Calcio fallita e in due anni è riuscito a far fallire anche la nostra azienda, un'azienda di eccellenza, un'azienda che produceva circa 24 milioni di euro di fatturato l'anno, dalla sera al mattino ci siamo ritrovati sull'Astrico, 240 famiglie. Ho proprio qui un documento inviatomi dalla curatela fallimentare, questa è la cosa grave. Date che noi siamo andati, siamo dopo il fallimento che è avvenuto il 14 luglio del 2014, il giudice Bruno Conca del Tribunale di Torino ha ritenuto opportuno che l'attività continuasse, perché aveva visto bene che c'erano i margini per poter produrre e guadagnare. Siamo stati autorizzati all'esercizio provvisorio con il curatore fallimentare Pagliero e proprio adesso mi arrivava un documento di sintesi delle attività dello studio Paglieri che in tre mesi siamo riusciti, al netto di tutte le spese, a portare un utile di 500 mila euro. Inutile dire tutti i tavoli istituzionali che abbiamo fatto, abbiamo fatto sia con il primo governo, con l'assessore Nappi dove c'è stato da sostegno e ci ha fatto da filtro con il Mise, con il dottor Castano dove si erano impegnati a trovare una soluzione, perché la nostra azienda era ricercata sul mercato e voleva essere anche acquisita, non si è capito il perché questa acquisizione non è mai arrivata. Poi arriviamo nel 2014 con le nuove elezioni dove il Presidente De Luca fa l'assalto alla diligenza e sale al governo di questa città, dove mentre prima avevamo con l'assessore Nappi un probabile prolungamento di un ammortizzatore sociale che era la Cassa Integrazione, invece il 21 luglio, data fatidica sia della conclusione della Cassa Integrazione per fallimento, ci siamo ritrovati con il nuovo assessore Sonia Palmieri che non ci ha rinnovato la Cassa Integrazione. A differenza del collega di prima che è un'eccellenza, anche la nostra è un'eccellenza nel nostro campo, mentre lui oggi fa fatica a ricollocarsi, a cercare di cambiare la sua mansione lavorativa, io ad oggi non ho niente da fare. Professor Nappi, Telespazio, Nuova Sinter, due angoli smussati dove tanta gente ci ha sbattuto. Esatto, due storie profondamente diverse. Un'azienda di qualità che doveva rappresentare per le sue capacità tecnologiche un'ipotesi di crescita per il territorio, quindi non soltanto salvare occupazione ma addirittura produrre occupazione, che viene spazzata via per rispondere a giochi che sono quelli del nord che è attento a queste dinamiche rispetto a una politica che qui c'è altronde disinteressata, e dall'altro lato invece un imprenditore del nord che prende, va via, scompare, e improvvisamente viene meno un tessuto produttivo, vengono mani opportunità e lavoratori che avevano bisogno di essere riqualificati e ricollocati rimangono soli, senza opportunità, senza che nessuno li accompagni se non in percorsi, illusori e drammatica. Sono specchi che rappresentano l'immagine del lavoro in questa regione così difficile, nella quale c'è bisogno di lavorare. Noi avevamo iniziato un lavoro in questo senso, si è drammaticamente interrotto in un fiume di promesse che non traducono nulla. Questo è il dramma di questi tempi di oggi. L'idea che la politica sia fanfare, sia squilli, sia soltanto grandi rappresentazioni di eventi, quando invece è duro lavoro e capacità di mettere insieme, di avere proposte, competenze, avere dei progetti concreti su quello, costruire un giorno dopo l'altro delle opportunità, far tornare qualcuno al lavoro, creare uno strumento perché qualcun altro possa avere un'opportunità, sostenere un imprenditore, parlare con qualcun altro, fare una rete, lavorare seriamente come merita la nostra comunità e come purtroppo non accade.